Trunk Based Development. Ci sono sostanzialmente due modi in cui un team di sviluppo può decidere di dividere il lavoro e organizzare il version control per non prestarsi i piedi. Ciao, io sono Michele e se sei la guida di un team di sviluppo che funziona ma senti che potrebbe fare qualcosa di più, allora vorrei essere il tuo consulente. Qui nella descrizione trovi un link magico che contiene un documento con 5 passi che puoi fare immediatamente per migliorare l'impatto del tuo team. Cominciamo! Ci sono sostanzialmente due modi con cui un team di sviluppo può decidere di lavorare insieme su un sorgente condiviso per non prestarsi i piedi. Abbiamo la filosofia del Future Branch e abbiamo la filosofia del Trunk Based. Sono simili nel senso che qualcosa condividono, ovviamente fanno l'uso dei branch entrambe le metodologie ma ci sono delle differenze sostanziali. Con il Future Branch di solito che potrebbe essere anche quello più diffuso prevede che uno sviluppatore, facciamo una linea principale, che sia essa main sia development o così via. In questo momento non ci importa. La nostra linea principale è il branch di lunga vita. Quando uno sviluppatore deve iniziare lo sviluppo di una feature si apre ovviamente un branch chiamato un feature branch che ha una certa durata ed è proprio qui che andiamo a cominciare a parlare di durata del feature branch. Tipicamente un feature branch potrebbe durare, che ne so, potrebbe durare all'ordine dei giorni, scrivo qui giorni, oppure perché no settimane. Magari ci auguriamo che sia nell'ordine dei giorni. Quando lo sviluppo è completato viene aperta una pull request per richiudere lo sviluppo verso main. Con Trunk Based più o meno facciamo lo stesso lavoro, però cosa succede? Le tempistiche e le dimensioni sono diverse. Innanzitutto prevede che il singolo developer e in generale comunque il team divida il lavoro in feature, generalmente parlando, più piccole, in funzionalità più piccole. In maniera tale l'obiettivo è quello di avere dei branch certo dedicati allo sviluppo di una particolare funzionalità o sotto funzionalità che possa durare anche qualche ora o al massimo uno o due giorni. Sono veramente molto più corti dei feature branch. Questo perché lo scopo del Trunk Based è quello di chiudere in master o in main, master ormai termine obsoleto, chiudere in main il più frequentemente possibile. Appunto, come vediamo, la filosofia dietro è la stessa. Mi creo un branch dove posso sviluppare di feature e quando ho finito chiudo. Ma la differenza principale è lo scopo. Nel feature branch sviluppo un'intera feature. Immaginiamo per esempio la gestione di un'anagrafica a prodotto. Io faccio un attimo un disegnetto qua. La gestione di un'anagrafica a prodotto dove noi abbiamo qui, che ne so, la visualizzazione di un'immagine del prodotto, abbiamo il nome del prodotto e così via e possiamo, che ne so, creare un prodotto nuovo, ci metto un bel più, modificare le informazioni di un prodotto esistente, cancellare il prodotto e così via. Ecco, probabilmente in un approccio a feature branch io andrei ad aprire un branch di sviluppo che va a inglobare tutte le funzionalità magari che ho descritto in questo momento. Quindi visualizzo un'immagine, posso aggiungere un prodotto, posso eliminare un prodotto, posso modificare i dati di un prodotto che già esiste. Nell'approccio trunk based invece vado a lavorare con unità di lavoro molto più piccole e va a braccetto con quello che è un approccio lean di dividere il lavoro in batch i più piccoli possibili per andare comunque a dare incrementi di valore e funzionalità all'utente il più rapidamente possibile. Vogliamo generare valore il più rapidamente possibile e anche esercitare i nostri processi il più frequentemente possibile. Quindi in un approccio a trunk based, quando io apro un branch di sviluppo, quello che faccio è magari una prima iterazione della mia, la disegno qui, user interface, l'ho fatta veramente piccolina, la ingrandisco un attimo, ecco facciamo così, della mia user interface, facciamo finta che questo sia un browser web, dove vado a mettere ovviamente magari il titolo del mio prodotto, lo sto disegnando qui, e poi l'idea sarebbe magari quella, la prima iterazione sarebbe semplicemente quella di visualizzare un prodotto e faccio un feature branch dedicato solo alla visualizzazione. Poi farò un feature branch successivo dedicato che ne so, alla cancellazione del prodotto e allora metterò un bel pulsante, che ne so, un'icona del cestino e implementerò le funzionalità di backend necessarie alla cancellazione del prodotto. Un'interazione successiva potrebbe essere quella di visualizzare un'immagine del prodotto e così via. Adesso qui ho dato ovviamente delle priorità mie arbitrarie per fare un esempio, ma in un approccio veramente agile, questo dovrebbe essere concordato dal product owner, quello che è, product manager, chiamiamolo un po' come vogliamo, sostanzialmente il referente del prodotto, del progetto, insieme con il cliente, che ha chiare o che insieme stabiliscono le priorità, voglio prima questo, voglio prima quest'altro. E quindi ecco, questa è la principale differenza, si parla di scope molto più piccolo. Cosa dobbiamo fare per raggiungere trunk-based development? Beh, una prima pratica l'abbiamo già detta, quindi dobbiamo lavorare in batch più piccoli. La metto qui, batch in unità di lavoro, ok, più il più piccolo possibile che ci diano un incremento di funzionalità utilizzabile, anche di poco valore, ma comunque funzionale. Un secondo requisito per poter portare avanti questo trunk-based development è quello di avere degli processi di pull request, quindi di revisione del codice, molto leggeri. Non possiamo permetterci di avere delle revisioni del codice molto pesanti, molto lunghe e che richiedono quindi tanto tempo perché dobbiamo farne di più di quello che si fa con un approccio un po' più tradizionale, ok? Quindi dovremo magari rivedere i nostri approcci, i nostri processi di revisione del codice, potenzialmente investire in automazione, analisi statica del codice, non lo so, però dovremo avere sotto controllo anche questo punto di vista. Tre, un'altra cosa da fare, è sicuramente investire in test automatizzati, ok? Perché test automatizzati. Questo è un po' un sempreverde in tutte le pratiche dove vogliamo ottenere velocità e qualità. Infine, per andare a mitigare, diciamo, un po' l'effetto delle pull request, delle code review, potrebbe avere molto senso quello di fare più frequentemente per programming o andare a rinforzare una pull request sincrona, ok? Perché non vogliamo avere troppo in modalità sincrona, potremmo avere dei ritardi troppo lunghi tra quando io apro la pull request e quando viene chiusa e quindi magari io potrei essere bloccato per uno sviluppo o per il mio branch successivo perché magari devo aspettare che sia chiuso quello precedente. E quindi andiamo un po' a spingere con il sincronismo degli eventi in, anticipando totalmente la review con un, appunto, un per programming, perché no? E quindi faccio la revisione mano a mano che scrivo e quindi non dovrebbe esserci poi bisogno di ulteriori approvazioni oppure vado a chiedere una pull request subito dopo che la vado ad aprire in maniera sincrona una revisione con un collega. I pro di questo approccio quando è implementato correttamente è che abbiamo un feedback loop tra developer, un feedback loop, quindi un sincronismo tra developer più frequente perché magari devono parlarsi magari un po' di più appunto investendo in quello che è per programming o code review sincrona. Un'altra cosa è che andiamo a fare continuous integration più frequentemente, quindi almeno una volta al giorno e andiamo a ridurre la probabilità di introdurre problemi ad ogni incremento perché se l'incremento è più piccolo lo controllo più frequentemente e quindi magari mi è anche più facile sistemare eventuali problemi. Quindi prendiamo il caos in piccole dosi. Ovviamente beneficio ultimo ma non ultimo è quello che andiamo a ridurre, qui scrivo merge meno meno, andiamo a ridurre quelle che sono le problematiche di merge perché se io vado a fare, vado a integrare delle modifiche di codice più frequentemente e perché sono più piccole, beh di conseguenza diciamo che il blast radius, l'impatto della mia modifica nella code base è più probabile che vada tutto bene in quanto le sue dimensioni sono più contenute e quindi dovrò molto probabilmente risolvere pochi o alcuni o zero conflitti. Una volta che ho preso confidenza con questa parte, qui vado un attimo a cancellare, come si effettua una release quando stiamo utilizzando la metodologia di Trunk Based? Invito magari anche ad andare a leggere, basta un po' googlare la strategia Release Branch di Microsoft che è appunto una Trunk Based che viene utilizzata in molti prodotti. Quindi quando devo fare una release parto dal mio main, dal mio trunk o maini chiamiamolo come vogliamo, dal mio branch principale e stacco un branch che chiamo release, lo chiamo in questo caso nome steso, release barra che ne so il numero di versione, che ne so la 4. A questo punto è questo che è come un segnaposto per indicare che questo commit ha raggiunto un livello di feature qualità o quello che è insomma, la qualità dovremmo già averla verificata a livello di pull request con code review, automazione, un sacco di cose, quindi ogni commit su main dovrebbe essere production ready secondo la Trunk Based. E quindi quando diciamo abbiamo raggiunto il livello di feature che io mi sento confidente o che è utile per i miei utenti rilasciare, apro un branch di release, di solito con la commissione appunto release barra numero della release. Qui questo commit verrà compilato come continuous integration eccetera, tutto il contenuto, creati gli artefatti e rilasciati in automazione con la mia pipeline nei vari ambienti e quello che devo fare per rilasciare l'applicazione ai miei utenti finali. Nel caso di problemi in produzione vado ad agire in questo modo. Quello che potrebbe essere istintivo fare è di andare a correggere direttamente sul branch di release. Quindi io ho un problema vado a fare la fix sul branch di release e poi la porto nel branch main. Però potrebbe essere ancora più furbo anche se un po' controintuitivo lavorare al contrario e lo faccio in azzurro. estendo un attimo qui. Se nella release 4 che sta andando in produzione riscontro un problema la prima cosa che vado a fare è vado a vedere se nella linea di sviluppo principale che magari è proseguito un po' sul main questo problema procede ancora. Quindi mi faccio una domanda esiste in main? Se la risposta è sì e la metto qua allora cosa faccio? Vado a correggere il bug con un feature branch cortissimo dedicato alla risoluzione di quel bug. Faccio così e poi riporto con un cherry pick nel branch di release. Questo mi protegge dalle regressioni. Quindi mi assicuro che se questa cosa accade in main la risolvo in main in maniera tale che non accada più e poi riporto con un cherry pick nel branch che attualmente rappresenta la release in produzione. Se invece la risposta dell'esiste in main questa cosa è la risposta è no perché magari la code base è cambiata è evoluta e quindi quel problema non sussiste più allora vado a fare un commit diretto. Un intervento diretto potrebbe anche essere ovviamente con un feature branch partendo da release. Vado a fare qui un mini ciclo di sviluppo nel branch di release e chiudo il problema e rilascio quello che potrebbe essere di nuovo nel branch release 4. Con il trunk based development ci fermiamo qui. Se da questo video hai imparato qualcosa oppure ti è piaciuto metti un mi piace e iscriviti al canale così sarai notificato sulle prossime uscite. questo è il mio indirizzo email a cui mi puoi contattare se vuoi una consulenza personalizzata o un progetto per il tuo team. Ciao!